La parola chiave per il Comune di Bologna è approccio sistemico, per rendere la città più vivibile, più verde, più sana, più giusta, più sicura abbiamo bisogno di far lavorare insieme politiche diverse, attori diversi, interventi diversi, misure diverse e renderle sinergiche quindi dobbiamo lavorare sui temi della neutralità climatica con una riduzione delle emissioni al massimo perché facciamo parte della missione clima che vuole raggiungere la neutralità climatica al 2030 ma anche i temi dell'energia, i temi dei trasporti, i temi del digitale, i temi appunto del ripristino della naturalità nella nostra città e degli ecosistemi naturali, quindi la legge europea in questo senso è molto importante ma deve essere appunto tenuta tutta insieme con tantissimi appunto diversi interventi, politiche e attori deve essere un approccio anche molto federativo, partecipativo quindi per noi il contratto climatico cittadino è lo strumento che ci porta in questa direzione che vuole portare la città con la c minuscola in questa direzione mettendo insieme tutti questi componenti e questi elementi attorno appunto a un approccio sistemico integrato www.mesmerism.info Grazie per la visione!